A Rabinovici non basta questa cosa, torna a casa e vuole scrivere ai parenti negli Stati Uniti, prende, carta appena scrive, cari parenti, cugini, qui è un disastro, qui è un disastro, non solo quelli burocrati schifosi, ma guardate, non basta che schifezze ci danno di mangiare, i prezzi, sono andato l'altro giorno a magazzino Guniversale, Guniversalni, Departamento Alimentari, e cosa vedo lì? Vendono uno polo, così, uno polo, per 60 rubli, come fa un famiglia a mangiare con un polo così, 60 rubli, una disgrazia, 60 rubli uno polo, in buca la lettera, puntualmente alle 3 di notte, arrivano gli agenti del KGB, puff, per la collotola, lo portano alla Lubianca. L'uffiziale di turno è un bravo uomo, è anche stanco, gli dice, cittadino Rabinovici, cittadino Rabinovici, propaganda antisovietica negli Stati Uniti, va bene che si tratta di parenti, ma le voci circolano, ma cosa vi è venuto in mente? Calunniare la vostra patria con quello che abbiamo passato. E poi cittadino Rabinovici, mi stupisco di voi, non sapete che l'unica cosa che funziona in Unione Sovietica è la censura? Cosa vi è venuto in mente? Va bene, va bene, guardate, sono troppo stanco. Metto la vostra pratica sotto tutte le pratiche, guardate che sono 20 anni di Gulag. Ebbene, qui sotto, se non sento più niente di voi, questa sparisce, ma non fatevi ribeccare. Rabinovici, via, 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 andate a dormire. Rabinovici terrorizzato una settimana, due, tre, quattro, un mese, ma poi non resiste. Di nuovo carta, penna e scrive. Cari parenti, cugini e amici, qui Unione Sovietica Paese più felice di mondo. Siamo felici, c'è tutto, non ci manca niente, è tutto ricominciato di funzionare, scuole, ospitali, vacanze, tutto bellissimo. E prezzi più convenienti del mondo. L'altro giorno sono andato a magazzino universale con un departamento alimentare, sapete cosa vedo lì? Un coso che non potete neanche sognare. Vendono uno intero elefante fresco per soli 40 rubli. Potete immaginare questo? Ve lo sognate in America. Un esercito mangia un settimana, un famiglia, sei mesi, uno intero elefante fresco. Capite? 40 rubli. Però io ho pensato un pochettino. Cosa lo faccio io da solo di un intero elefante fresco? Aggiungo 20 rubli e compro uno polo.